Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi video haul di Pepco. Sono stata da Pepco due giorni fa e ho trovato delle cose molto carine. Ovviamente è un mini haul, non ho preso tantissime cose, ma ci tenevo comunque a farvele vedere. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto, un bel like di supporto se vi fa piacere e di seguirmi anche negli altri social. Comunque vi lascio tutto qui sotto nell'info box. Allora, io quando vado da Pepco mi sembra di andare da Primark, perché più o meno ha lo stesso stile, costa poco e ha delle cose veramente molto molto carine. Non so perché, ma mi colla un po' il naso. Vabbè. E volevo farvi vedere che cosa ho trovato di interessante. Io in realtà avrei comprato praticamente tutto, però ho preso proprio due cosine e adesso ve le faccio vedere. Allora, ho preso... in realtà cercavo delle mutande, ma non mi piacevano i modelli, quindi li ho lasciate lì. Però ho preso i calzini, eccoli qua. Cinque paio di calze, due euro e cinquanta. Cioè, raga, due euro e cinquanta cinque paio di calze. Vi ho detto, sembra Primark, costa veramente pochissimo. È un mini Primark, praticamente. Mi piace un sacco. Poi ho preso... allora, io quando vado da Pepco mi piace tantissimo, mi piacciono un sacco le candele profumate. Hanno delle profumazioni, ragazze, meravigliose. Mi piacciono un sacco. Praticamente le ho provate quasi tutte, e l'unica che non avevo provato di Pepco era la candela alla vaniglia. Eccole qua. Cioè, sono buonissime, buonissime. Allora, l'unica cosa è che ce n'è poco, secondo me, di candela. Però, ragazze, durano un sacco. Anche quelle alla... aspetta, quale è che avevo... aspettate, quale è che avevo preso l'altra volta al fruttibosco, mi pare. Ce l'ho ancora, quindi non l'ho ancora consumata. Un euro e cinquanta, ragazze. Una candela, un euro e cinquanta. E ne ho prese due. Due uguali, eccole qua. Volevo prendere anche quelle rosa, che non so che gusto siano. L'altra volta avevo preso appunto quelle frutti di bosco, ed erano meravigliose quelle frutti di bosco. Ma queste qui, secondo me, sono le migliori. Cioè, sono proprio... buone, ragazze. Buonissimo. Un euro e cinquanta, una candela. Toppo. Poi, ultima cosina, che... Allora, adesso vi spiego cosa è successo. Allora, praticamente io cercavo un portamonetine nuovo, perché il mio si è un pochino rovinato. E sono andata nel reparto vicino alla cassa, e ho visto questi piccoli zainetti fatti così. Allora, intanto guardate quanto è carino, con topolino e paperina. Cioè, bellissimo. Poi c'era anche di paperino, però a me piace topolino. Ed era azzurro, mi pare. E ho scelto questo qui rosa, che io adoro. Ma la sorpresa è stata quando sono tornata a casa, perché sentivo qualcosa dentro. E non riuscivo a capire cosa fosse. Vedete, poi qui ha il gancino, quindi potete utilizzarlo anche come portachiavi, se volete. Io questo qui lo utilizzerò come portamonete, perché il mio si è tutto rovinato. Quindi, adesso vi faccio vedere però cosa c'è dentro. E dopo tolgo quello che c'è all'interno e ci metto le monetine. Ma guardate quanto è carino. Allora, torno a casa e sento qualcosa all'interno. Dico, ma cosa c'è? Cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Perché lì per lì non avevo capito che c'era della roba dentro. Pensavo che fosse solo un borsellino. Adesso, ragazzi, vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Allora, voi aprite. Praticamente è un mini zaino. È un mini zainetto. E all'interno, cosa c'è all'interno di uno zainetto? Cos'è che bello? Allora, all'interno troviamo una piccola agendina. Adoro. C'è, ragazze, una piccola agendina con topolino e paperina. Ma è mini, eh. È piccolissima. Poi vabbè, è fatto così, molto molto semplice, bianco. Poi, non è finita qua. Abbiamo una mini penna. La notte che è piccola. Una mini penna rosa. Bellissima, ovviamente. Meravigliosa. Io quando ho visto sta cosa ho detto, oh mio Dio. Cioè, stupenda, ragazze. Stupendo. Non è finita. Poi abbiamo degli stickers con topolino, mini e paperina. E una gomma, da cancellare, di topolino, di topolina e, scusate, mini e paperina. Cioè, io quando ho visto sta roba dentro, ho detto, adesso ritorno e compro la versione di paperina. Solo per avere questi qua. Cioè, bellissimo. Il tutto, questo, l'ho pagato pochissimo, una cavolata. Quindi è un mini zaino, praticamente. Una mini bag. E della Disney, versione Disney. Eccolo qua. Due euro e cinquanta, raga. Due euro e cinquanta. Come potevo non prenderlo? Cioè, io non potevo assolutamente lasciarlo lì. Anche se mi sono accorta dopo. Di quello che c'era dentro. Ma, raga, è bellissimo, guardate. Carino, bellissimo. Da tenere in borsa. Cioè, quasi quasi ritorno e prendo anche la versione. Appunto, di paperina. Perché mi piace un sacco. E niente, ragazzi. Questo è stato il video di oggi. Ovviamente è stato un video molto breve. Però ci tenevo a farvelo... Cioè, a farvi vedere quello che avevo acquistato. Se vi capita di andare da Pecco, andateci. Perché ci sono veramente un sacco di cose interessanti. Trovate reparto cartoleria. Trovate reparto della casa. Quindi, tovaglie. Anche reparto bagno. Trovate un sacco di contenitori per il bagno. Devo andare a prendere un cestino di paglia per la biancheria. Adesso, se mi trovo, sicuramente andrò a prenderlo. Poi, trovate un sacco di decorazioni per la casa. Candele. Cioè, trovate centri tavola, tovaglie, cuscini, addirittura coperte. Cioè, trovate veramente un sacco di cose. Purtroppo vestiti pochi. Trovate più vestiti per bambini da Pecco, più che per adulti. Però, se cercate, trovate anche qualcosa per adulti. Ho visto, ad esempio, un pigiama molto molto carino. Primaverile, però. Di Topolino, se non mi sbaglio. Siamatela Disney. Mutande, calzini, reggiseni. C'erano anche i reggiseni. Ecco, sicuramente tornerò a fare un giretto. Cioè, veramente, è piccolino. Non è tanto grande. Però, c'è della roba molto carina. E mi ricorda un sacco Primark. Perché, per me, è proprio un mini Primark. Cioè, se voi vedete, anche il packaging. Cioè, ricorda proprio Primark. Cioè, costa pochissimo. Cioè, voi entrate lì dentro e vi comprate il mondo. Perché costa veramente poco. 1,50 euro a una candela. Cioè, favoloso, 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 favoloso. E niente, ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video. E io vi mando un grosso bacio. Ciao!